la piccola scritta dice, si, tu come ti sei permessi di richiore, non entriamo nel cipare, le sorelle sono pericolose, è indelicentissima, ci sono due laurea, tu mi tieni due laurea ma se non succede che dopo lei ti risponde c'è un altro articolo sul giornale in base a chi è l'unico, non c'è niente, non c'è niente di su, è perché li ho ti e dopo aver parlato nella casa è nascosto... Ma guardate un ruoto, un ruoto che diceva io io ti ho contattato a chi dice che è questo O su Dio Ma perché ti permette di dire queste cose? Allora io dico questo, questo, questo sono i banchi Sono i banchi, sono i banchi perché? Ignoranti ci stanno a stendere, papà. Grazie 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 Grazie